buongiorno a tutti buon venerdì buon primo dicembre benvenuti sul mio canale tutto dal web io sono angela in questo video parliamo di zenning che nella giornata di ieri nella serata ben precisamente 30 novembre è andata in onda su canale 5 e pucci andrea pucci fa pezzi di show di maria de filippi e cita anche angelina mango ma vediamo nei dettagli cos'è successo e qual è stato il suo monologo che ha fatto suscitare grande critica sui social il comico ha creato un monologo che è andato a toccare il tasto televisivo in particolare i meccanismi dei programmi più popolari del momento nelle sue battute finali infatti sono finiti ballando con le stelle il grande fratello amici c'è posta per te e anche uomini e donne ma quello che ha toccato di più sono state le stoccate velenose ai programmi di maria de filippi infatti su amici dice amici che non dovrebbe più chiamarsi amici ma parenti c'è la figlia di mango il cugino di gigi alessio a della verità c'è stato anche il figlio luca in arte lda e poi una stoccata a c'è posta per te lo guardo perché dico io avevo una famiglia di marda poi vedo e ha scandito pucci infine sempre continuando a parlare di tutto ciò che riguardano i programmi di maria de filippi un pomeriggio guarda uomini e donne mi sono addormentato mi sono svegliato e c'erano tutti vecchi mi sono detto ma quando cavolo dormito insomma non le ha mandate a dire è il suo monologo divide il pubblico social e non solo e tu l'hai seguito cosa ne pensi lascia il mio like e iscriviti al mio canale ciao e alla prossima